Si è costituita una nuova sezione a Fano di un'associazione a livello nazionale importantissima. Sì, che è l'Associazione Donne Medico Italiana. Allora, a Fano l'abbiamo aperta, fondata quest'anno, però in realtà l'Associazione Donne Medico Italiana ha una storia di 100 anni. È stata fondata nel 1921 e fa parte dell'Associazione Internazionale Mondiale di Donne Medico. Ecco, perché avete voluto questa fondazione anche di una sezione appesa? Sì, perché c'è la necessità, secondo la nostra opinione, di, come diciamo ci consiglia anche l'OMS, di puntare molto sulla medicina di genere. Cosa intendo per medicina di genere? Cioè, intendo che, ad esempio, alcune patologie abbastanza comuni, tipo l'infarto, colpisce sia la donna che l'uomo. Ma nella donna, oltre alla specificità individuale, assume degli aspetti diversi che dall'uomo. Quindi occorre un maggior approfondimento sul percorso diagnostico e terapeutico per fare una terapia più adeguata e proprio per promuovere a livello scientifico la medicina di genere. Cioè la medicina con un'ottica particolare femminile. Ecco, per fare questo avete anche sentito l'esigenza di fare diversi eventi anche divulgativi. Uno, tra l'altro, tra pochissimi giorni. Sabato 9 novembre, nella splendida cornice del Teatro della Fortuna, del nostro teatro, facciamo un incontro, un evento, sulla salute degli adolescenti. Proprio perché abbiamo, per fortuna, una grossa sensibilità da parte dei dirigenti delle scuole, dai dirigenti del provveditorato degli studi, che ci inviano gli studenti, molti studenti, proprio per parlare insieme a noi sulla salute degli adolescenti. Oltretutto li rendiamo anche partecipi perché ci sarà la parola anche agli adolescenti.